andiamo adesso ad affrontare in questa lezione un altro parametro il parametro del tempo lo affronteremo sia dal punto di vista del bambino che dal punto di vista dell'operatore il tempo è veramente un parametro molto importante perché dobbiamo far sì che per il bambino questo tempo che lui impiega nel trattamento sia un tempo altro cosa vuol dire vuol dire che deve essere un tempo scandito da un rituale scandito da un qualcosa che entra nella vita del bambino e lo di si differenzia da tutte le altre attività che lui sta facendo è importante tenere presente che il tempo vuol dire il giorno della seduta vuol dire l'orario per permettere al bambino di orientarsi teniamo presente che parlando dell'età evolutiva quindi in una fascia di età che va da 1 a 12 13 anni possiamo capire che il parametro del tempo viene interpretato a seconda delle varie età in maniera diversa è importante quindi che sia l'operatore a fornire al bambino degli strumenti per potersi orientare poter orientare quando inizia la seduta potersi orientare quando la seduta sta per finire e poter accogliere la separazione dall'operatore con estrema tranquillità è importante anche per l'operatore sapere aspettare sapere aspettare è una delle chiavi per vincere su questo tipo di trattamento molte volte c'è l'impazienza